Due giorni di scienza al Dipartimento di Fisica dell'Università di Palermo in occasione della 24esima settimana della cultura scientifica e tecnologica. Manifestazione annuale del MIUR nata con l'obiettivo di creare dei momenti d'incontro tra cittadini, ricercatori ed effetti per diffondere la cultura tecnico-scientifica. Così il Dipartimento di Fisica e Chimica dell'Atenopera del Mitano, Collinaf, Osservatore Astronomico di Palermo e l'Iceo Classico Umberto I, ha organizzato un convegno scientifico sugli strumenti delle collezioni storiche locali e le relative visite guidate allo scopo di valorizzare il patrimonio storico-scientifico. Diversi sono stati gli argomenti trattati tra cui la storia della strumentazione, tecniche di restauro, la catalogazione e promozione degli strumenti antichi. Noi come Dipartimento di Fisica abbiamo delle collezioni di strumenti scientifici di fisica e di chimica e quindi abbiamo un interesse principale a valorizzare, tutelare questo tipo di collezioni, ma anche perché questi strumenti storici che sono custoditi nelle collezioni possono essere anche un elemento da usare nella didattica, nella didattica laboratoriale, con delle repliche degli escherimenti condotti per esempio in passato. È stato già da qualche anno sviluppata una certa esperienza sul restauro dei beni scientifici di interesse storico e penso che come l'esperienza italiana nel campo artistico, nel campo del restauro e della conservazione dei beni artistici, anche l'esperienza nel campo dei beni tecnico-scientifici possa essere da modello, o comunque da traccia per quello che si può fare in altre nazioni. Infatti ci sono istituti, musei, penso al Museo Galileo, la Fondazione Scienze Tecnica di Firenze, ma altri posti che hanno elaborato anche delle tecnologie, dei protocolli e una certa esperienza che può essere utilizzata da altri istituti anche al di fuori dell'Italia. In più, nuovi strumenti sono stati aggiunti alla già vecchia collezione del Dipartimento di Fisica e Chimica, un tesoro con oltre 450 pezzi tra i 1800 e il secondo dopoguerra, non ancora completo e che nei prossimi mesi sarà ulteriormente avvicchito. La collezione si è ampliata tantissimo nell'ultimo anno nell'ambito anche della mia tesi e sono stati aggiunti ai già 120 pezzi presenti e schedati, altri 200, tra cui la Camera di Unizzazione di Segre e l'Elettonato di Terucca, dalle usate nella scoperta del prodizio.